Cioè, Tony e Tina rientrano all'interno di una narrazione che è quella di amici, di quella che c'è posta per te, del grande fratello, in cui il confine tra il racconto di un fatto e il trash è molto sottile. La musica neomelodica può essere tanto un fenomeno, tanto un genere, no? Dentro il quale noi troviamo il tema dell'amore, della famiglia. La musica che contraddistingue il genere neomelodico è il pop. Così la forza nella melodia è la lingua napoletana. A Napoli il genere neomelodico è mainstream. Tony Colombo è venuto a Napoli per diventare un grande e famoso cantante neomelodico. L'interessante è come in quella canzone Mary trasponga il padre nella dimensione di vittima e come quell'immaginario si associa alle vittime innocenti di Camorra. In quel video c'è proprio un richiamo preciso perché mentre lei sta cantando questa cosa poi si vede il cielo, la luce in cielo, quindi quasi un essere assurdo in paradiso. Il mare è l'orizzonte, ma il mare, la spiaggia, è il luogo dove è stato ammazzato. Stava a Terracina, dove loro erano in vacanza. Questa dimensione della memoria, della testimonianza della figlia, della memoria del padre è la retorica tipica del ricordo delle vittime innocenti. Per colmare l'assenza del padre c'è bisogno di tantissime figure. Ed è interessante vedere come il sostegno parte da un mondo come la pizzeria e poi a tutte le persone che le incontrano per strada. E quindi è proprio la città che la sostiene. Si reclama una purezza e che questa purezza passa anche attraverso il simbolismo religioso. Il simbolismo religioso che viene ripetuto. Le persone che la incontrano hanno tutte la medaglietta della Madonna e il croce fisso. E alla fine si capisce perché. Perché evidentemente Gaetano Marino è asceso in paradiso. Da lì, da dove è stato ammazzato, cioè dalla spiaggia. Il fenomeno Tonettina è interessante. Uno perché la neomelodia vuole avere un ruolo di riconoscimento pubblico. Il divismo è connaturato soprattutto alla scena neomelodica che si genera negli anni 90 a partire da una figura come Gigi D'Alessio e poi tanti altri che determineranno questa idea del divo pret-à-porter. Questa dimensione oggi tende a premere fortissimamente anche grazie alla disintermediazione dei social network. La disintermediazione dei social network consente a questo mondo di arrivare direttamente al suo pubblico che riesce ad arrivare al nazionale soltanto per la propria eccentricità. Nella dimensione del glamour, di quella narrazione neomelodica che potrebbe essere come una storia di Instagram. Cioè Tony e Tina rientrano all'interno di una narrazione che è quella di amici, di quella che c'è posta per te, del grande fratello in cui il confine tra il racconto di un fatto e il trash è molto sottile. Quindi un pubblico come quello di Barbara D'Urso è interessato a conoscere. Tony Colombo quasi immediatamente rende pubblico il suo amore per Tina. Se noi andiamo a ripercorrere la storia di Tony e Tina nelle cronache precedenti al matrimonio anche per esempio a quel famoso attentato alla casa di produzione di Tony Colombo lì già si era costruita un'attenzione. Tony Colombo incontra Tina, vedova di Camorra e a qualcuno non sta bene questa cosa e sparano contro la casa di produzione. Dopo questo evento accade un'altra cosa cioè si comincia a ragionare del matrimonio e ci sono diversi articoli di giornali in cui si annuncia che questo matrimonio sarà un matrimonio da favola. Non so se sia una strategia comunicativa o evidentemente una splendida coincidenza. Dove l'hai incontrata ci dovremmo domandare. Come l'hai incontrata? Perché ha incontrato proprio Tina? Molto probabilmente perché ha fatto cerimonie in quel mondo. Grazie a tutti.